Con il via libera della Commissione Industria del Senato ad un emendamento al decreto sviluppo viene modificata la norma sulla prescrizione dei farmaci contenuta nella spending review che obbligava il medico che si trovava a curare per la prima volta un paziente con una patologia cronica ad indicare nella ricetta rossa del Servizio Sanitario Nazionale il nome del solo principio attivo. L'emendamento approvato introduce per il medico la doppia possibilità scrivere soltanto il principio attivo oppure scrivere sia il principio attivo che il nome commerciale del medicinale. L'indicazione del farmacobrand è vincolante per il farmacista ove nella ricetta si è inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità. L'indicazione è vincolante per il farmacista anche quando il farmacobrand indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente. Sono le categorie più deboli che hanno più bisogno in realtà del consiglio del medico e io ovviamente auspico che il medico dia un consiglio disinteressato e dia un consiglio che è basato su quella che ritiene debba essere effettivamente la terapia, tanto più quando si tratta di malattie croniche, che sono persone sottoposte a terapia da lungo termine, cambiargli il farmaco per quanto sia equivalente è sempre un po' discutibile e in tutti i casi il rapporto deve essere tra medico e paziente. Il servizio sanitario nazionale mette a disposizione il costo standard per quel prodotto, che è quello dell'equivalente e quindi se uno vuole prendere un altro farmaco però c'è il medico che lo consiglia, lo deve poter tranquillamente fare essendo informato di quello che succede, non informato dal farmacista, informato dal medico. Sono più di 88 milioni gli over 65 in Europa, pari al 17,53% dell'intera popolazione europea. Ricevono oltre il 5% del PIL europeo in termini di salute, in contropartita investono per sé e per i propri cari qualcosa come 300 miliardi di euro ogni anno. Secondo i dati di Federanziani in Italia, 4 miliardi di euro provenienti dalle pensioni sono messi annualmente a disposizione di nipoti e figli da parte di parenti anziani. Numeri che mostrano quanto sia fondamentale il contributo degli over 65 per le famiglie italiane. Alla cerimonia conclusiva dell'anno europeo dell'invecchiamento a cui ha partecipato anche il premier Mario Monti, il ministro per la cooperazione e integrazione Andrea Riccardi, citando i dati di Federanziani, ha sottolineato quanto il contributo degli anziani rappresenti un notevole risparmio per le famiglie. La sola attività di babysitteraggio gratuito dei nonni, come dicono appunto i dati di Federanziani, si traduce in un risparmio complessivo di 24 miliardi di euro per le famiglie a cui appartengono. Raccogliendo quanto è maturato in questo anno europeo, ha concluso il ministro, promuoviamo una carta nazionale per un invecchiamento attivo, vitale e dignitoso in una società solidale. Questa carta è uno strumento per tradurre le sfide in opportunità di coesione e crescita e rappresenterà un'implementazione del piano nazionale per la famiglia approvato dal governo. Una settimana dopo la presentazione del compendio SIC Sanità in Cifre, da cui è emerso con chiarezza come nel nostro paese cresca la spesa sanitaria ma non diminuiscano gli sprechi, il premier Mario Monti è tornato a chiedere una riforma del Servizio Sanitario Nazionale, che altrimenti rischia di non essere più sostenibile per lo Stato. Del resto la fotografia scattata dal rapporto Sanità in Cifre di Federanziani ha messo in luce come la spesa sanitaria dal 2000 al 2010 sia aumentata di oltre il 60% e gli sprechi siano rimasti invariati. Un esempio su tutti, quello dei centri trapianti, che nel nostro paese sono 50, dislocati su tutto il territorio nazionale, ma con una media annuale di poco più di 60 trapianti per centro. Abbiamo una forte disomogeneità nazionale con una parte che è ai livelli più alti dell'Europa e insegna l'Europa è una parte tra le più degradate. Di ciò patiscono soprattutto le classi deboli come gli anziani e noi dobbiamo invece considerarsi un tutto unico, lanciare dei modelli nazionali che rendano omogenea la sanità, siano percorsi di risparmio virtuoso con scelte insieme e dedicate soprattutto agli anziani, che debbono poter essere occupati, soprattutto integrati nella società, ma garantire loro l'autonomia. Non è possibile al giorno d'oggi vivere nella società senza avere autosufficienza e autonomia. Cresce il numero degli anziani con diabete. Oggi infatti nel nostro paese su circa 3 milioni di persone colpite da diabete di tipo 2, due terzi hanno un'età superiore ai 65 anni, con il 25% over 75. Il dato, destinato a crescere in vista del progressivo invecchiamento della popolazione, pone l'attenzione sulla cura e l'assistenza dell'anziano con diabete, ma soprattutto sulla prevenzione delle complicanze strettamente correlate alla malattia. È quanto emerge dal rapporto anziani con diabete realizzato con il contributo non condizionato di Novartis nell'ambito del progetto Annali dell'Associazione Medici Diabetologi. Dallo studio dei diabetologi, che analizza i dati relativi ai 250 centri di diabetologia su tutto il territorio nazionale, emerge infatti con chiarezza quanto sia difficile tracciare un identikit preciso dell'anziano con diabete. Esistono infatti i diabetici anziani, più semplici da gestire perché hanno già ricevuto nel corso della loro malattia tutte le indicazioni sui corretti stili di vita e sulle cure da seguire, e gli anziani diabetici, ossia persone che sono diventate diabetiche nella terza o quarta età, nelle quali è più difficile intervenire, migliorare lo stilo di vita o cambiare abitudini radicate. Il processo di invecchiamento della popolazione, sempre più rapido, porterà nell'arco dei prossimi anni ad una crescita esponenziale delle malattie croniche, e tra queste il diabete è la prima e la più temibile. Per questo, secondo il presidente di Federanziani, Roberto Messina, sebbene il diabete sia oggi controllabile, va diagnosticato ed affrontato in tempo e soprattutto non sottovalutato, in quanto se mal curato, rappresenta un importante fattore di rischio per una serie di patologie fortemente invalidanti. Anche quest'anno il Natale sarà all'insegna del risparmio, con gli italiani costretti ancora una volta a fare i conti con le pesanti conseguenze della crisi. Il dato peggiore è che per 19 milioni di connazionali sarà il peggior Natale dal 2010. Il sondaggio di Confesercenti parla chiaro, la metà degli italiani si affida alla speranza per definire le prossime feste, un modo di contrastare gli incubi della crisi e del futuro, ma aumentano anche coloro che non si fanno illusioni. E neanche la tredicesima potrà salvare questo Natale. Una parte consistente di questa, più di 11 miliardi e mezzo, andrà a rimpinguare i risparmi. Gli italiani, insicuri sulla possibilità di una rapida ripresa, preferiscono accantonare quello che possono. Circa 12 miliardi provenienti dalle tredicesime invece verranno usati per far fronte ai mutui e pagare i debiti, mentre quasi 13 miliardi e mezzo saranno impiegati per affrontare le necessità della casa e della famiglia. Per i regali quindi rimane ben poco. Secondo i dati raccolti da FederConsumatori, la spesa media a famiglia si contrarrà a circa 148 euro.